Cari amici, è un momento emozionante. La clinica Gremi arriva a Milano per offrire consulenze gratuite e presentare l'avanguardia dell'implantologia dentale e dei servizi premium per la tua esperienza di cura. I nostri esperti non solo offrono consulenze sull'implantologia dentale, ma anche servizi personalizzati per pazienti con parodontite e chirurgia maxillofacciale per il rialzo del seno mascellare. La nostra filosofia si traduce in un approccio olistico alla cura, che va oltre il semplice trattamento dentale per abbracciare il benessere completo del paziente. Scegliere la clinica Gremi significa scegliere risparmio e qualità, insieme a servizi premium che renderanno unica e confortevole la tua esperienza di cura. Prenota ora una consulenza gratuita con il nostro staff medico e scopri come possiamo trasformare il tuo sorriso, offrendoti soluzioni all'avanguardia con la professionalità e l'esperienza della clinica Gremi.